Il mondo sarebbe santo se tutti fossero come noi. Testimonianza di Angela Giussiano, nata a Lemma di Rossana, frazione grossa, classe 1896, contadina. Noi eravamo nove di famiglia, più di sedici nati. Mia madre ha comprato più volte una coppia di gemelli e poi sempre eseguitava a uno. Ne sono morti sette o di più. Morivano. Io mangiare ho sempre mangiato. Ai bambini buttavano la roba là e si governavano da loro. Io ero una tisicona, niente robusta, sottile, fine. Non ne valevo nessuna io da giovane. Ma eppure mi sono allevata. Vivevamo a castagne, polenta e latte scremato. Il pane lo mangiavamo anche, pane asciutto, pane misto di grano e di segala. Pochi lo facevano di sola segala. Il pane era poco e se guardavamo la fetta di pane in trasparenza vedevamo l'eremo. Le castagne le mettevamo a seccare negli essiccatoi con il fuoco sotto. Il fumo faceva morire i vermetti. Poi avevamo le tasche pistuire. Un sacchetto di tela ricoperto da una pelle di coniglio. Afferravamo quel sacchetto uno per parte. E battevamo le castagne secche contro un ceppo. Poi mettevamo le castagne all'aria del vaglio che girava, mandava via la pelle, la pula. Ne facevamo 10-12 sacchi ogni giorno. E una palettata di castagne nel paiolo. E quello era il nostro pane. Perché morivano tanti bambini così? Non morivano poi mica di fame? No, a volte erano mal curati. Era come per i conigli. Non li guardavano mica i conigli. Avevano l'erba i conigli. E si arrangiassero. Uno o due dei nostri è andata che dormivano nella stanza alta. Un freddo del diavolo d'inverno. Si è bagnato. Si è pisciato addosso. Aveva due anni. Mia madre va a vederlo e lo trova tutto freddo gelato. E lì si è preso la polmonite. E non curato per tempo, è partito. Una mia sorella aveva la bronchite. Tossiva come una carbonaia. Era verde come quelle foglie. Di sangue lì non ce n'era più. Niente da fare. Dal medico non si andava. Anche lei è morta. E nelle famiglie i bambini morivano quasi la metà. Se avevano da vivere, vivevano. Se no, morivano. E anche le donne, anche le madri morivano. Le donne compravano tutte nella stalla. Magari per non prendere un'ostetrica, per non spendere, lasciavano morire la moglie. C'era tra i contadini chi faceva diversi mestieri. Il cantastorie, il veterinario, il medico. Per i parti c'erano le donne pratiche, che poi ne capivano poco o niente. A volte si trovavano di fronte a un'emorragia, facevano il consulto. Era una cosa tragica. Le madri colpite dall'emorragia morivano quasi tutte. All'Emma c'erano una quindicina di famiglie. Eravamo 120 i bambini a scuola. Andavamo a scuola portando un pezzo di legna a ognuno per il riscaldamento. Ho fatto una terza malfatta, ma so ancora qualcosa di quella scuola. Carlo Alberto era il re della piccola Sardegna. Si mise in capo di liberare gli italiani, ma i potenti non vollero concedergli il Lombardo Veneto. Perciò i milanesi lo costrinsero ad abbandonare la città. Anche il catechismo lo sapevamo in memoria. Avevamo quattro giornate di terra, due vacche e un asino. Noi saremmo morti di fame, ma mio padre faceva i rastrelli e le scope, lavorava i rami della betulla e così rimediava qualche soldo. A sei anni andavo già al pascolo in montagna con le due vacche. Avevo una gran paura dei temporali e della nebbia. Una volta mi sono perduta nella nebbia, in alta montagna. Quanto ho gridato e quanto ho pianto. Le vacche erano disperse, io non trovavo più la strada di casa. Mi hanno affittata a undici anni nella mia ruota e piangevo che ero troppo in fuori. Stentavo, avevo la nostalgia della mia casa. Poi mi hanno affittato a Venasca. Andavo al pascolo con le sei bestie legate e i padroni mi sgridavano sempre perché la corda si strappava. Lì mangiavo di più che a casa mia. Mangiavo in cucina, ma dietro al buffet. Loro a tavola e io nascosta là, dietro, in un angolo. I padroni avanzavano la minestra. C'era un cane grosso di nome Paris e mi dicevano questa minestra che avanza è per te e per il cane. Mi facevano sbattere le uova con la panna. Io sbattevo fino a quando non sentivo più la mano. E loro mangiavano la panna senza offrirmene nemmeno un cucchiaino. Era gente così. Erano affittavoli. Avevano preso un bambino da allevare a pagamento. Era di revello. Toccava a me allevare quel bambino. mi davano 160 lire di affitto per tutto l'anno. Quando mi sono affittata alla Torassa avevo poi già 20 anni. C'era la guerra. In campagna non c'era più nessun uomo. Io e il manuale abbiamo raccolto 28 giornate di meliga in due cascine grosse. A me davano 28 soldi al giorno e a lui 3 lire. Io non tenevo indietro dal tiro e allora ho protestato. Io vado via io faccio il lavoro che fa lui ho detto. Mi hanno offerto 30 soldi. Io con due soldi di aumento sono rimasta. e poi a spogliare la meliga fino a mezzanotte. La padrona era poi sempre sulla porta a vedere se lavoravamo. Ma come sono cambiati i tempi. Oggi qui viene una famiglia di Torino in villeggiatura. A volte avanzano una pagnottina di pane duro e la danno al nostro cane. A me fa impressione a vedere a sprecare quel pane. Penso alla nostra miseria di una volta. Io le prime scarpe di cuoio le ho comprate a 15 anni. Prima avevo le scarpe rosse fatte con la pelle delle bestie. A 15 anni ho avuto finalmente un paio di scarpe vere. Una specie di stivaletti con tanti bottoni. Le portavo poco ma andavo sempre a guardarle tanto mi piacevano. andavo scalza c'era poi già la brina e allora mettevo un piede sull'altro per scaldarli un po'. Fino ai 25 anni sono stata affittata e anche i miei fratelli e sorelle erano affittati. Ognuno di noi faceva la sua borsa ma davamo tutto al nostro padre. avevo 18 anni e ho detto a mio padre che le mie zoccole erano rotte e dovevo comprarmi in un paio e lui ha brontolato un po' e poi mi ha dato 18 soldi. La nostra vita in questi paesi era semplice ci accontentavamo di poco si andava tanto a vie nelle stalle le donne filavano la canapa la rista i giovani regalavano il ruet alle ragazze le stalle più popolate erano quelle dove c'erano delle ragazze le stalle dove vivevano solo due vecchi nessuno le cercava eravamo dei poveracci innocenti eravamo proprio sinceri qualcuna c'era sulla quantità che non potevamo capirla ma la gran parte di noi giovani eravamo seri c'erano anche quelle che mancavano ma erano poche e la moralità una volta non era poi come adesso adesso le ragazze sono imbastardite qui quando una ragazza restava incinta i genitori la sognavano anche di notte era la fine del mondo la religione allora era veramente religione non come adesso i giovani di oggi sono dei diavoli la sera di natale si faceva la torcia una betulla lunga due metri e grossa come il collo di una bottiglia si pestava si pestava la punta sfilacciata si accendeva a mezzanotte quando in colonna scendevano dalla montagna per andare alla messa i bocia sti ragazzini di 15 anni che portavano le torce e anche tornando a casa si ripeteva la fiaccolata a casa ci aspettava una tazza di caffè e latte ed era già festa grossa la prima barra di cioccolata l'ho mangiata che avevo 40 anni la sera dell'epifania si faceva il gioco dei biglietti si mettevano in un cappello una trentina di nomi di ragazzi e altrettanti di ragazze poi si tiravano su i biglietti combinando le coppie a un certo punto nella stalla si spegneva il lume parisia cumanda si diceva ed entrava nella stalla parisia un bamboccio di paglia che era poi la befana si riaccendeva il lume e con parisia presente la festa continuava il 25 marzo la fine della veglia la veglia è passata si faceva una grossa luminaria in ogni casa i giovani si ammucchiavano su un bricco accendevano un falò bruciavano la veglia bevevano si ubriacavano anche le feste padronali erano feste grosse c'era tanto alcolismo giovani e vecchi tutti bevevano si mangiava poco ma bere tanto era una necessità il bere con l'alimentazione troppo scarsa fino al 1890 qui non c'era la filossera c'era anche un po' di vigna e il vino non mancava dopo per via della filossera il vino andavano a cercarlo all'osteria litigavano gli uomini c'era sovente la rissa la gelosia per le ragazze era normale così se in una frazione arrivava un giovane forestiero lo aggredivano e giubbotte in ogni festa si picchiavano e qualcuno aveva il pugnale c'era chi aveva proprio la violenza addosso chi aveva proprio il gusto di picchiare c'erano gli attaccabrighe dire a uno della morra mura c'è era già un'offesa una provocazione si staccavano la cinghia dai pantaloni e con quel nervo di bue giusta affilate e calci si può dire che tutte le domeniche da una parte o dall'altra gli uomini si picchiavano i nostri vecchi parlando di questa violenza dicevano eh chi è morto fa della terra chi è vivo fa della guerra in occasione delle feste patronali la gente si sfogava tanto con i mortaretti più c'erano scoppi più la festa era importante contava che da lontano sentissero le nostre feste se credevamo alle masche si si ci credevamo tanto alle masche ne ho sentite tante storie delle masche ma le ho mai viste le masche Nadu del verdarole abitava in uno dei ciabot del conte il conte ne aveva sei ciabot Nadu era convinto di riuscire a fermare la tempesta e la gente ci credeva solo i più furbi ridevano quando il tempo girava e si sentiva col tuono il temporale che si avvicinava tutti correvano a suonare la campana la cappella per allontanare la tempesta Nadu dove si trovava lungo una strada o in casa da altri stendeva per terra la giacca o il mantello andava sul suo adesso sono sul mio diceva si inginocchiava pregava e la sua magia riusciva sempre se tonava e non tempestava diceva di aver fermato la tempesta se tempestava diceva non l'ho preso a tempo fino a quattro anni fa la gente correva ancora a suonare le campane delle chiese per parare la tempesta se il prete per noi era importante era tutto il prete la gente gli dava molta retta non ci aiutava ma teneva il suo posto tutte le sere dicevamo il rosario il primo giorno di quaresima mercù schiurot da noi si chiamava il magnin il calderaio la gioventù faceva festa in quel giorno i ragazzi giravano da una casa all'altra e tutti avevano le facce nere di furigine gli adulti invece si riunivano nelle stalle a pregare e con la brocia si diceva un rosario speciale il primo giorno di quaresima dicevamo 40 paternoster e la brocia su un bastoncino ognuno di noi segnava il primo incastro la sera dopo ne dicevamo solo più 39 paternoster e un altro incastro nella brocia così scalando un paternoster ogni sera si arrivava alla fine della quaresima era una tradizione così tutti facevano così allora Dio era tanto era tutto la nostra vita era anche regolata dai proverbi c'era il giorno di marca e anche le stagioni erano marcate segnate se santorso soleggia la paglia fa 40 giorni di brutto e bel tempo di battaglia ne sapevo tanti proverbi anche le stelle erano importanti mio padre vedeva in cielo il carro il bue e conosceva sirio venere giove mi ricordo un altro proverbio l'annata in cui il pigro il ritardatario indovina una cultura è un anno triste oppure che non una sola ragazza che si sposa di mercoledì l'indovina la gente parlava tutto a proverbi se i matrimoni erano combinati erano quasi tutti di convenienza era il soldo che comandava i sensali dei matrimoni i rufian sapevano dove andare a cercare le ragazze ricche i rufian erano molto conosciuti era proprio un mestiere il loro ce n'erano di quelli in gamba e altri che erano dei pasticcioni degli stupidi a rufiano se l'affare andava bene si regalava un fular giallo o un cappello si invitava al pranzo di nozze roba da rufiano vuole dire roba gialla un oggetto giallo ancora oggi mio padre diceva sempre fare il rufiano è poi una cattiva cosa se va bene sei già pagato se va male hanno ancora da pagarti se un aspirante sposo aveva dei soldi era più bello se uno aveva solo delle rive contava poco mettetegli 500 lire sul culo alle vostre figlie poi vedrete che si sposano subito diceva un rufiano a un contadino a un padre di famiglia povero si emigravano tanti con la miseria che c'era chi poteva scappava mio padre andava sempre in Francia a fare la stagione dell'inverno a Cannes negli alberghi a pulire le casseruole e a lavare i piatti chi andava in Belgio chi andava nell'America a lavorare nelle mine di carbone o di metalli nell'Illinois nel Colorado mio cognato era nell'Arizona ed era già contento perché la mangiava del pane a volontà tante famiglie di Lemma ne avevano uno o due in America c'era mica nessun posto che si guadagnava come nell'America del Nord dall'America mandavano i soldi a casa e qualche volta il mortorio e ne morivano nelle mine là i neri erano segregati l'ultima categoria erano i neri e i giapponesi poi venivano gli italiani i giapponesi erano addetti ai lavori lungo le ferrovie o giardinieri ai neri e gli italiani aspettavano tutti i lavori più umili che cosa ricordo del fascismo non ne so niente del fascismo ho mai preso un giornale in mano sono andata una volta a vedere il duce a Cuneo mi avevano dato un fazzoletto con sopra scritto viva il duce mi è piaciuto quel viaggio tutti gridavano viva il duce ma io non gridavo noi nel mondo siamo sempre stati sinceri senza nessuna balla per la testa quella storia lì del fascismo per noi è già una cosa troppo grossa sì voto la democrazia cristiana ma lasciamola lì piegata cioè non ne parliamo di queste cose se c'è poi qualcosa nell'altro mondo va bene io spero che ci sia e se non c'è pazienza del male non ne ho fatto io vivo alla mia moda finché muoio voilà se il nostro signore manda la capra manda anche il cespuglio dicevano i nostri vecchi quando siamo nati morire non volevamo eppure non morire non si può da vecchi siamo solo più un ingombro se uno è nato sotto un cattivo pianeta cioè con un oroscopo cattivo è vissuto male e pazienza e il mondo di oggi mi fa impressione è cambiato in meglio è cambiato che non si vive più sono tutti avvelenati hanno la porcheria nella testa non parliamo dei giovani di oggi ma il mondo sarebbe santo se tutti fossero come noi se la pensione contadina è importante cosa faremmo senza quelle 18 mila lire di pensione ci sarebbero di quelli che morrebbero di fame ce ne danno già troppi ma abbiamo rabbia che a quelli della fabbrica impestata ne danno di più di pensione noi vecchi continuiamo a lavorare a far rendere la terra siamo noi che procuriamo il mangiare agli altri la nostra terra di qui nessuno la compra i nostri giovani sono scappati tutti in pianura qui diventerà tutto deserto e verranno i lupi se credo che l'uomo va nella luna non ci credevo ma adesso ci credo perché ho visto la televisione non riuscivo a capire che la luna fa chiaro fa luce e là sopra invece è tutto buio e non la pensavo grande la luna è ben distante se noi la vediamo così piccola e grazie a tutti Grazie a tutti